sono le 19 e 30 mi trovo qui al mio orto comune luco dei marci altipiano del cucino il pomeriggio oggi pomeriggio ma siamo quasi alla serata certamente 19 e 30 si presenta molto bene sono molto impegnato ho molto da fare ogni giorno c'è sempre qualche cosa da fare è altrettanto vero che faccio sempre il pisolino il pomeriggio perché la notte e dopo mezzanotte mi alzo poi vengo qua quindi il pomeriggio un'ora due ore forse anche tre ore dopo di che ritorno qui e quindi mi sento attivo dinamico e soprattutto sono produttivo a proposito questa è la cicora selvatica cicora selvatica sapete cosa faccio questa qua dopo la tolgo da qui perché qui forse con il trattore nota l'anno per pesare e la metto qui tra lo spazio interquilare vedete